È tutto tranquillo ora. Direi che possiamo uscire. Dunque, vediamo che cosa abbiamo qui. Ops, troppo presto. Bene, ciao a tutti, cuccioli. Salve, signor grosso spaventoso cane fantasma, signore. Credo che me la sto per fare addosso. No, 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 sono davvero dispiaciuto. E vi ho... spaventati? Mi chiamo... Grimm. Bene, piacere di conoscerla, signor Grimm, ma siamo randaggi e dobbiamo tornare per strada. Fermi! Sono un piccolo randaggio perduto. Proprio come voi. Ragazzi, non possiamo lasciarlo qui. Come possiamo aiutarla? Magari potremmo fare uno scam. Se voi aiutate me, io potrei aiutare voi. Che ne dite di volare? O passare attraverso i muri? O mangiare qualsiasi cosa vogliate? Senza mai sentirvi sazi? Mi sembra davvero meraviglioso. Dai, facciamolo! Fantastico! Aspettate, dove sta Linga? Cosa ci sta succedendo? Cosa ci sta?